E' morto a 93 anni Nguon Cea, braccio destro del defunto dittatore cambogiano Pol Pot. Conosciuto come fratello numero due dei Khmer Rossi, ideologo della soluzione finale degli ultramaoisti, che fra il 75 e il 79 provocò oltre 2 milioni di morti nel paese. Dietro all'aspetto di un vecchietto indifeso si celava un criminale ferato che, malgrado si fosse consegnato alle autorità nel 1998, continuava a vivere libero. Solo nel 2014 è stato condannato da un tribunale ONU, ma vigliacamente non ha mai ammesso le proprie responsabilità, dando la colpa di quello che era accaduto a quelli che erano i suoi sottoposti.